Vasta e capillare opera di moralizzazione da parte dei carabinieri in provincia di Isernia. Denunce a Rionero Sannitico, Assessano del Molise e Montaquila. Blizza antidroga a Venafro. A Rionero sono stati denunciati due campani di 60 e 40 anni, rispettivamente titolare e direttore dei lavori di un cantiere dile nel territorio di Montenero Valcocchiara. L'accusa, tentata corruzione di due funzionari della direzione territoriale del lavoro. Assessano sono finiti nella rete dell'arma tre molisani della provincia di Campobasso, responsabili di un cantiere dile. L'accusa è quella di inosservanza delle norme anti-infortunistiche. A Montaquila, invece, sono stati denunciati un 65enne del luogo e un 52enne di Capriati al Volturno, che avrebbero invaso e danneggiato con una scavatrice un terreno privato. A Venafro, infine, è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile un quarantenne pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e contraffazione di prodotti industriali.